Da triplice fischio dell'arbitro, hanno rischiato qualcosa fino alla fine, il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. Che partita si è sembrata Luca? Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata come quella di oggi. Siamo ai titoli di coda, un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Sono io che ringrazio te Fabio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.